La pizza è la cosa più bella che esiste perché la pizza la mangia tutto il mondo Perciò un prodotto internazionale che ha lo stesso nome in tutto il mondo è solo la pizza E riunisce la famiglia alla pizza Sì in effetti è uno spettacolo è un divertimento perché c'è anche il gusto chiaramente Mi chiamo Antonio Manzi, sono da Salerno, sono 18 anni Sono l'attuale cambio del mondo 2008